Ma mamma, sei, hai il nonno che ha cucinato, sì, c'è cucinato, c'è cucinato, c'è cucinato, ma io avrei stamattina che io cucino, da stamattina, eh, va bene, sì, non possono mangiare sempre cose cose cose, c'ho cucinato, c'ho cucinato da stamattina, va bene, eh, eh, lo vedi da mangiare magari tu? Eh, oggia, io mi avrei stamattina che la cucino, cucinai, cucina, aspetta, ma ti spiego, un minuto, fai riparare, ti riuscite cucinare, allora ho fatto risotto alla monna, che melenzane, fumaggio, uova, ne, come? Io mi fa frio? Sì, certo, ma non sai perché mi senti perfetti qui sopra, sì, bellissimo, bellissimo, poi fischi, i baccheri, che vomboli, belli, che goccio, no, è bellissimo, ma c'è sui baccheri bellissimi, e, lasagne, lasagne, ah, poi fischi lasagne, sì, magari lasagne fischi, ravioli a pistacchio fischi, Tutte queste cose, ma che ti pare che non esce queste pazzle sulla tua, magari io non esce le pazzle, sì, eh, eh, mamma, mi posso aiutare, eh, e poi ho fatto parmigiano, rostito le melenzane, e i peperoni, e poi che fischi, no, fischi magari frittate, sì, frittate di spinaci, spinaci, e di patate, mamma, di patate, e poi a rosti, un po' di gamberoni, e un po' di piscispato, ma è meglio il tuo ristorante, stai inato a che si mangia, vuoi ammettare, ah, vuoi ammettare, ah, vuoi ammettare, ah, vuoi ammettare, ah, ma vuoi, ma vuoi caricare un stipendio, però, se vi caricare un stipendio, potremo ammettare a tu, ah, eh, ma c'è, la spisa già la fischi, e che fai, mamma, non è che potessi riconoscere con la mamma delle pasticcine, dopo che io cucinai tutte queste cose, ci vuole un risotto, non si sente occhio, migliorevo, Erika, ma chi ce le ciste che ha cucito a sti toni? Ma chi ma poteva scontriare la mia macchia, ora che ce le sti romposti, ma io puoi caricare, da qua non capisci, casicare, questo non mi ha chiesto, no, 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 io non capisci sti cosi, non capisci. Io risposto, c'è a posto una pari di menù, ora io c'è a posto una pari di menù, in prima, un secondo, di carne, con donne, pane più una lattina, costretti euro e novantanone ti faccio mangiare. Ecco. Ah, per questo in prima, un secondo, di carne, con donne, pane, più una lattina, trentici euro e novantanone, gli faccio mangiare, non capisci. Eventualmente con un pollo più patatine, bevanda, tomacchio con 9,99 euro gli faceva mangiare. Un pollo più patatine, due primi, bevanda, tomacchio con 14,99 euro gli faceva mangiare.